bella ragazzi come vedete mi è arrivato un altro pacco andiamo tutto a spacchettare come vedete preso su google shop vediamo cosa c'è dentro partiamo con la maglia dall'italia la vedete è molto bella taglia s rispettive etichette con codice qr logo richiamato nemmeno una cucitura che sporge anche questa dell'adidas retro classico vedete la scritta l'italia chiamo passiamo all'altra regalite di ronaldo veramente bella lupo perfetto anche questo non è fatto aggiungere pace dagli europei etichetta portogallo anche qui rispettive etichette e questo è il retro il go bene ragazzi siamo giunti nel video vi lascio tutti i link in descrizione per acquistare questa mail portogallo dall'italia tantissime altre utilizzate il mio codice alla prossima grazie 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 grazie